Ciao a tutti, oggi sono qui perché vorrei mostrarvi uno dei miei ultimi acquisti, che è la Sara with Sweet Strawberry. È arrivata da poco, eccola qua, ed è uscita in coppia con un'altra versione bionda, che è questa qua. Questa qui, e questa che ho preso io, la rossa, è la versione limited edition. Questo è il libricino che arriva con lei, con le foto di loro due insieme. Ed ecco la bambola. Allora, non vi dirò molto su questa bambola perché, come vedete, con tutte le zone è veramente meravigliosa. I capelli sono la classica fibra zone, molto morbida. E il vestitino, che qui vedete, non è un vestito unico, ma è composto da più pezzette. Adesso vi farò vedere. Praticamente, ha la camicia, che potete vedere qui, il suo corpetto, che si possono togliere. Poi ha la gonnellina, il sottogon suo, e sotto ovviamente le mutande. Ha le sue calzine, la sua giarrettiera, e le scarpine. È tutta snodata, per chi non le conosce, queste bambole. Ha il nuovo corpo, che può allargare le braccia e le gambe. E questi sono gli occhietti. Vediamo se riusciamo a inquadrarli un po' bene. E in testa ha i suoi fiocchetti. Assieme a lei ho ordinato il corpicino più grande. Il corpo L, che è la versione più grande. La versione adulta, diciamo, di queste bambole. Che, a differenza delle versioni precedenti, ha più seno. Ok? E le gambe più lunghe. Anche lei può allargare gambe e braccia. Ovviamente non ha la testa, poverina, perché è in fase di lavorazione. Eccola qua. Bene. Detto questo, io vi lascio. E vado a finire di dipingere la mia testa. Ciao, ciao! Ciao! Grazie a tutti.